Buonasera, buonasera da Onda Tg, in apertura subito la notizia del giorno, 10 città italiane nelle dossier di casa Italia, c'è anche sul Mona, si parte da una sfida di 25 milioni di euro, noi facciamo la politica dei fatti, così il sindaco Anna Maria Casini e l'assessore regionale alle aree interne Andrea Gerosolimo, noi facciamo il punto nel servizio. 25 milioni di euro per i 10 cantieri pilota che saranno avviati in tutta Italia, assieme a Catania, Feltre, Foligno, Gorizia, Sernia, Piedimonte e Matese, Potenza, Reggio Calabria, Sora, c'è anche sul Mona. Il capologo Peligno è l'unico comune in Abruzzo che entra a far parte del dossier di casa Italia del progetto sperimentale di messa in sicurezza del patrimonio edilizio. Si raccolgono i frutti di un progetto comincerà ad ottobre, prima nel convegno al Cinema Pacifico che ha portato alla convenzione con gli NGB e poi nell'altro incontro alla presenza del ministro del Rio, incentrato sulla sicurezza sismica. Ora comincia la sfida. E già al settimo cielo il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso. Siamo davanti a una città di valore, una città fatta di storie e di problemi che vengono dalla storia e dalle mura della storia. Naturalmente benissimo ha fatto il presidente Renzi nel prevedere le risorse per il piano Casa Italia. Adesso cogliamo l'opportunità del primo piano straordinario per la resistenza sismica del patrimonio italiano a partire dai territori dell'Appennino, ha detto D'Alfonso. L'assessore regionale e l'area interna, Andrea Gerosolimo, rimarca il lavoro di squadra tra regione e comune di Sulmona. Ci abbiamo creduto e il sogno è diventato realtà, commenta con soddisfazione. Sulmona entra in Casa Italia insieme ad altri nove comuni italiani. Contro chi crede che convegni e visi restituzionali siano solo passerelle, noi facciamo i fatti, conclude il sindaco Anna Maria Casini. E ora di nuovo con la vicenda del plesso scolastico sulmonese Denino Morandi. La serie storica dei ragionieri e geometri, il comitato degli ex docenti, va alla procura della Repubblica dell'Aquila, chiesto subito un incontro con il procuratore Gallo. Sentiamo meglio nel servizio. Il comitato degli ex docenti Denino Morandi fa sul serio e tramite uno dei portavoci, Franco D'Amico, chiede un incontro al procuratore della Repubblica dell'Aquila Stefano Gallo in merito alla vicenda dell'omonimo plesso scolastico chiuso dal 17 ottobre 2014 dopo i sigili possi della Guardia di Finanza dell'Aquila su una parte dell'edificio per presunti lavori sbagliati post-sisma. Ho fatto questa richiesta perché bisogna ritornare immediatamente al plesso scolastico di Sulmona in tempi brevissimi e per capire come sta definitivamente questo stabile. Quindi chiede al procuratore come si trova effettivamente e cercare di consegnare l'immobile a tutti i cittadini di Sulmona e anche i paesi di Mitrofi, chiaramente. Dall'anno 2014 gli immobili che ospitavano il Denino Morandi sono chiusi a seguito di un parziale sequestro cagionato da presunta regolarità nella gestione dei lavori di ristrutturazione ed equavamento sismico, scrive D'Amico nella lettera spedita alla Procura della Repubblica. Ne consegue che l'intera popolazione scolastica e l'intero corpo docente sono stati allocati provvisoriamente presso l'idri Prato La Peligna. Il perdurare di questa situazione, osserve il professore, oltre all'intuibili disagi per popolazione studentesca e corpo docente, sta determinando ulteriori danni agli immobili in conseguenza dello stato di abbandono nel quale essi versano. Este in bai sicuramente ci si sta pensando seriamente, io ho avuto la richiesta, ho cercato di tamponare, però non hanno torto, effettivamente è una situazione da risolvere, immediatamente, c'è poco da dire, diciamo. Da qui il Comitato ha chiesto un incontro alla Procura, unitamente con l'assessore comunale dei lavori pubblici Mario Sinibaldi. Si punta dunque ad accellare i tempi per la riapertura a stretto giro della sede storica dei ragionieri e geometri. Ora la viabilità, quattro incidenti in soli 30 giorni sulla strada provinciale 52 che incrocia la frazione Torrone della città di Sulmona. Si scatena ancora una volta la rabbia dei residenti che hanno pronto un esposto da depositare alla Procura della Repubblica. Sentiamo meglio nel servizio. Quattro incidenti in poco più di un mese sulla strada provinciale 52 che abbraccia il territorio della frazione di Torrone e i residenti tornano ad alzare la voce. L'ultimo episodio risale ai giorni scorsi. Le vistose e numerose buche sul manto stradale continuano a rendere la vita difficile agli automobilisti e in alcuni casi creano un serio pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità. L'argomento è stato al centro di un recente incontro fra una delegazione dei residenti, il presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis e il vice sindaco del comune d'Introdacqua Angelo del Monaco. I lavori partiranno a giugno ma la riparazione provvisoria delle buche non ha sortito l'effetto sperato. Ora basta, ci siamo davvero stancati a far notare sempre gli stessi problemi. Intervengono in coro i residenti che hanno pronto un esposto da depositare alla Procura della Repubblica. Non possiamo aspettare la tragedia ed è ora che si proceda con interventi immediati per tamponare la situazione fino a giugno ma non con la sabbia come è stato fatto finora, aggiungono gli abitanti di Torrone. Per gli interventi da eseguire sulla Provinciale 52 e sulla Moronese la strada che incrocia la Bazzia Celestiniana ci sono a disposizione dalle casse provinciali 100 mila euro. Nessuna epurazione, presto nuovi progetti, così il sindaco di Sumonanna, Maria Casini, che placa il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Sulle colonne del giornale aveva lamentato la sua assenza nel comitato delle celebrazioni. Facciamo il punto. Nessuna epurazione, non si fa attendere la risposta del sindaco Anna Maria Casini a proposito delle dichiarazioni del critico d'arte Vittorio Sgarbi riportate sulle colonne del giornale. Ho avuto il piacere di colloquiare con il professor Vittorio Sgarbi, fermo il sindaco di Sulmona, chiarendo attraverso una pacata e profigua conversazione la vicenda riportata dalla stampa che risale un anno fa quando chi ha preceduto il mio mandato, cominciato a luglio 2016, aveva inserito lo stimato storico e critico d'arte Vittorio Sgarbi nel comitato scientifico, composto prettamente da latinisti, guidato dall'esimio studioso professor Paolo Fedeli. Nessuna epurazione, dunque, nessuna sostituzione con il senatore Franco Marini, il quale, su volontà dell'ultimo sindaco emerito, era stato coinvolto invece come figura istituzionale e non all'interno del comitato scientifico. Ritengo quindi che il professor Sgarbi sia stato malinformato, prosegue il sindaco, e nostra intenzione è poterci avvalere delle importanti collaborazioni del professor Sgarbi, amico della nostra città, già presente attivamente in numerose edizioni del premio sul Mona, tanto che la nostra conversazione telefonica è stata incentrata sulla realizzazione di un progetto in sinergia dedicato ad Ovidio, su sua proposta da inserire nell'ambito del programma delle celebrazioni del bimilenario, che sarà così impreziosito ancora di più, affiancando eventi di respiro nazionale e internazionale in corso di programmazione, e il cartellone delle manifestazioni che saranno messe in campo con le città romene di Costanza e Ovidio, oltre alle dignitose proposte dell'associazione di Casa Nostra, che permetteranno ai turisti di vivere ogni giorno un evento di qualità in molti periodi dell'anno. E ancora a video 2017, dopo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ora tocca al Cavaliere Silvio Berlusconi. L'ex premier sarà a Sulmona nel prossimo mese di settembre, proprio in occasione delle celebrazioni ovidiane, ad annunciarlo questa mattina alla senatrice di Forza Italia, Paola Pelino. Sentiamo nei particolari. Da qualche ora la notizia era nell'aria, ora è ufficiale. Il presidente Silvio Berlusconi sarà a Sulmona nel prossimo mese di settembre, lo annuncia la vicepresidente del gruppo di Forza Italia, il senato Paola Pelino. Visiterà la città per la prima volta in occasione delle importanti celebrazioni del bimilenario della morte di Ovidio, che con l'imminente approvazione della mia legge saranno adeguatamente finanziate, viene a precisare la senatrice che riprende. Il nostro leader, tenendo fede alla promessa che ha fatto nell'ultima campagna elettorale per la città di Sulmona, mi ha dato questa bellissima notizia nell'incontro che ha avuto con lui a Palazzo Grazioli. Il presidente è molto legato alla nostra regione, come ha già testimoniato ampiamente, con le sue innumerevoli presenze e con la preziosa attività di governo, dove il terremoto del 2009 è che colpì l'Aquila e la sua provincia. Il suo prossimo arrivo a Sulmona mi riempie di orgoglio e sono certa che l'intera comunità, non solo della mia città, ma di tutta la regione, saprà accoglierlo con riconoscenza e entusiasmo. Per Sulmona e per tutto il territorio sarà senza dubbio una grande opportunità e un momento straordinario che valorizzerà ancora di più le celebrazioni ovidiane. L'annuncio dell'arrivo di Berlusconi arrivò nelle ultime consultazioni elettorali. Ho strappato un invito di essere a Sulmona l'anno prossimo per l'anno del Poeta dell'Amore, dell'Ovidio di cui ho imparato a memoria molte poesie in latino. Dopo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ora tocca all'ex Premier visitare la patria di Ovidio. Ora ci spostiamo a Prato-Lavelinia per parlare del Consorzio di Bonifica. Martedì prossimo è la prima seduta del nuovo Consiglio per eleggere il Presidente e nessun ricorso dopo 30 giorni dalle ultime consultazioni che risalgono al 5 marzo. Sentiamo nei servizi. Tutto pronto al Consorzio di Bonifica interno, a Terno Sagittario, con sede a Prato-Lavelinia per l'elezione del Presidente dell'Ente. Trascorsi 30 giorni canonici dalle elezioni consortili e dalla proclamazione degli eletti, non essendo stato presente ad alcun ricorso, la deputazione uscente ha proceduto a indire la prima seduta nel nuovo Consiglio dei Delegati, fissata per martedì 11 aprile alle ore 10.30. Presiderà l'Assemblea, il Consigliere più anziano e i componenti del Consiglio, il momento 11 in totale, saranno chiamati ad eleggere il Presidente, il suo Vice e tre membri della deputazione. Dalle elezioni dello scorso 5 marzo sono risultati eletti consiglieri Marco Iacobucci, ex Presidente dell'Ente, il più votato in prima fascia, Tonino De Santis, Carlo Di Ruscio, Fortunato Zaccardelli e Fiorenzo Schiavitti, un altro ex Presidente, seconda fascia, Adelmo Castagna, il candidato che inizialmente era stato escluso dalla competizione elettorale, Salvatore Ezio Zavarella, Egno, Cianfaglione, terza fascia. Gli otto consiglieri si vanno ad aggiungere ai tre nominati della Regione, mentre per il quarto bisognerà attendere ancora un po' di tempo. Settimana Santa ci siamo per sette giorni sul Mona al centro dei reflettori, si comincia domani con la presentazione del coro dell'Arci Confraternia della Santissima Trinità nel tradizionale concerto della Domenica delle Palme, ma sentiamo tutto nel nostro servizio. Conto alla rovescia sul Mona per i riti della Settimana Santa che ogni anno richiamano nella patria del poeta Ovidio migliaia di turisti e pellegrini. Tutto comincia domani, la Domenica delle Palme, quando viene presentato il coro dell'Arci Confraternia della Santissima Trinità nel solenne concerto che ripropone con il canto le parole del Salmo 50. L'appuntamento alle 18 presso la Chiesa della Santissima Annunziata, un gradito ritorno per il coro dell'Arci Confraternita, l'ultima volta risale a otto anni fa, il 5 aprile 2009, la vigilia del tragico sisma. Il lunedì santo le due confraternite, quella di Santa Maria della Tomba e quella della Trinità, si riuniscono nelle loro cappelle per il consueto sorteggio. Vengono estratti a sorte dalla mano dei più piccoli i nomi dei componenti delle varie quadriglie. Si passa così al giovedì santo dove la sera in tutte le chiese cittadine viene allestito l'altare della reposizione, erroneamente definito sepolcro. Venerdì santo è il giorno della passione, si celebra la liturgia dell'adorazione della croce. Nel pomeriggio intorno alle 17 è la confraternia di Santa Maria di Loreto a dar vita alla sua piccola e raccolta processione che parte dalla chiesa di Santa Maria della Tomba, attraverso una parte, ricorso video, piazza Minzoni e fa rientro nella stessa chiesa. L'evento più atteso è la processione serale del venerdì santo, organizzata dall'Arci Confraternia della Santissima Trinità. La sua origine è fatta risalire i drammi liturgici medievali. Quest'anno sono 190 anni da quando la gestione del corteo processionale è passata all'Arci Sodalizio Trinitario. Prima apparteneva alla congrega dei nobili. Il sabato santo si entra nell'attesa della risurrezione. In serato intorno alle 21 i vertici del Sodalizio lauretano accompagnano la statua della dolorata dalla chiesa di Santa Maria della Tomba alla chiesa di San Filippo Neri nella tradizionale camminarella, una breve e sentita processione fra le due comunità. Il giorno di Pasqua migliaia di persone si assiepano in ogni angolo di Piazza Garibaldi per assistere alla corsa della Madonna. Prima le tre tradizionali bussate, gli apostoli Pietro e Giovanni che invitano la Vergine Maria ad andare incontro a figlio risorto, rituale voluto dalla tradizione ma Maria è la prima donna credente. Grande boato quando la Madonna esce dalla chiesa di San Filippo e si incammina vestita dai panni del lutto verso il fontanone, centro della piazza, luogo da dove parte la corsa. Cade il mantonero che lascia spazio al verde della speranza mentre sorge la rosa rossa al posto del fazzoletto bianco fra il volo delle colombe e lo sparo dei mortaretti e l'applauso della folla festante. 14 secondi pieni di emozione che portano anche una boccata d'ossigeno all'economia cittadina e muovono il turismo di tutta Italia. E questa sera alle ore 21 al Teatro Comunale di Sulmona lo spettacolo patrocinato dall'Arci Confraternia della Santissima Trinità, l'ultimo viaggio del Capitano, questo il titolo che ripercorre proprio una storia di immigrazione organizzato dall'Associazione Culturale Classe Mista è uno degli appuntamenti che rientrano nel 190 anniversario della gestione della processione del Venerdì Santo di Sulmona da parte dei Trinitari. Il secondo appuntamento sarà proprio domani nella chiesa dell'Annunziata alle 18 con il tradizionale concerto della Domenica delle Palme, appuntamento come vi dicevo questa sera alle 21 al Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona, l'ingresso è libero per tutti. Ed ora cambiamo argomento perché il Parco Nazionale della Maiella si candida al riconoscimento UNESCO Global, una rete mondiale di aree geografiche. Ce ne parla Gaetano Trigilio nel nostro servizio. Il Parco Nazionale della Maiella sta lavorando alacremente per candidarsi all'UNESCO Global Geoparks, candidatura che si muove in parallelo con quella di patrimonio naturale associato legato agli eremi e al sentiero dello spirito. Meritiamo questo riconoscimento in quanto il Parco Nazionale della Maiella è uno dei pochi parchi che realmente ha tutte queste peculiarità e bellezze naturali ma soprattutto la storia e la natura che ci permette a candidarci nell'UNESCO. Gli UNESCO Global Geoparks sono aree geografiche dove i siti ed i paesaggi di valore geologico internazionale sono gestiti secondo un approccio integrato per quanto riguarda la tutela, l'educazione e lo sviluppo sostenibile. Un gioparco mondiale UNESCO, questa è la dizione italiana, serve a valorizzare il patrimonio geologico, locale e in perfetta simbiosi con il patrimonio naturale e culturale presente nella medesimaria per accrescere la consapevolezza e la comprensione di alcuni dei fattori chiave che la società sta affrontando oggigiorno a livello globale e mondiale, quale l'uso sostenibile delle risorse del pianeta, la mitigazione per quanto possibile degli effetti climatici e la riduzione dell'impatto dei disastri naturali. La candidatura del Parco Maiella, si legge in un documento, è il naturale sbocco di molti anni di attività, posti in essere fin dai primi anni del 2000, per la divulgazione e la conoscenza a livello europeo anche oltre della geologia, delle caratteristiche naturali, la storia e la cultura dei territori e delle comunità del Parco. In questi anni si è provveduto a coinvolgere altri enti territoriali e le università. Recentemente è stato siglato un protocollo d'intesa con l'Ordine dei Geologi e la Regione Abruzzo, pertanto appare oggi che il sogno di costituire un gioparco UNESCO può diventare realtà. L'importante è l'adesione al progetto di tutti i sindaci dei comuni del Parco e di altri enti territoriali. Di tutto questo si è discusso in un incontro tenuto nella sala ciampa della sede del Parco per coinvolgere nel progetto altri portatori di interessi. L'obiettivo finale è sempre quello, cercare comunque di attrarre, specialmente in un momento così delicato e tremendo per questa nostra Regione Abruzzo, di far sì che tante persone, e soprattutto il turismo, venga veramente a vedere tutto quello che di bellezza oserei dire nascosta attualmente nel Parco Nazionale Maiella. Chiude anche il posto di Polizia Polfer di Sulmona, un argomento che all'indomani della notizia che ha gettato nello sconforto coloro che erano scesi in campo in prima persona per difendere il presidio è stato al centro della nostra raccolta di opinioni. Allora sentiamo tutto nel nostro servizio. Ecco l'ennesimo presidio che chiude, vorremmo sapere che cosa apre a Sulmona. A dirlo nelle piazze e nei quartieri sulmonesi, gli intervistati della nostra raccolta di opinioni all'indomani del provvedimento emanato dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, che ha disposto la soppressione del posto di Polizia Ferroviaria. Speriamo che si apra la porta della speranza e non si chiuda pure quella, hanno commentato in coro gli intervistati. Speriamo nella Madonna di domenica prossima che ci faccia più qualche cosa, che qua chiude tutto. Si apre la porta la domenica di Pasqua, poi se si apre qualche altra cosa... Chiude tutto qua. Si chiude tutto, perché purtroppo non si vende e la gente ha pochi soldi e allora... Poi è il pariato della polfera in questo caso, di un presidio di Polizia. Sì, infatti io abito sotto la stazione, ho sentito... tolto pure quello, significa che qua ormai ci chiudono pure le porte, porta a Napoli. A questo punto me lo dica lei, perché non so veramente cosa possa aprire. Speriamo che si apra la speranza, che ci sia ancora la speranza e che non si chiuda pure quella. Qui a Sulmono ormai credo che non ci sia rimasto più nulla, una città che viene sempre più sventrata di ogni cosa. Speriamo almeno in questo di unirci. Sì, ho saputo che hanno chiuso la logica ferroviaria. Evidentemente non serve. Che ci rimane? Ci rimangono i ferroviari. Però è un'altra chiusura per la città. Sì, un'altra perdita. Sicuramente. Non lo so la motivazione. Evidentemente stanno stringendo le fila. Chiude tutto e non aveva niente. O ci si inventa di siana pianta qualcosa, il singolo, oppure se in Bacassu il Mono bisogna più emigrare verso fuori. E ora la simulimpresa della Confetti Panfilo Serafini, stra premiata. L'ultimo riconoscimento è arrivato proprio a Predazzo. Le classi primo B e terzo B della scuola media Panfilo Serafini di Sulmona hanno partecipato così alla nona fiera internazionale simulimpresa che si è tenuta nei giorni 30 e 31 marzo a Predazzo, in provincia di Trento. L'iniziativa simulimpresa consiste nella riproduzione, nel contesto scolastico, della realtà aziendale di un'impresa, simulando le singole fasi gestionali dell'attività e prevede la partecipazione a fiere internazionali nelle quali le imprese si confrontano realmente. Il progetto dei ragazzi della Panfilo Serafini prevede la costruzione di una vera e propria impresa di commercializzazione di prodotti tipici di Sulmona. Nel caso specifico i confetti sappiamo che sono un'icona, un simbolo del capologo Peligno, composizioni di confetti e bomboniere. Gli scambi commerciali avvengono con altre imprese simulate all'interno di una rete circuito internazionale che si estende in circa 50 nazioni diverse e comprende oltre 5.500 imprese simulate. Alla nona fiera internazionale simulimpresa hanno partecipato circa 70 imprese, sia italiane che straniere, in particolare romene e austriache. In fiera la confetti Panfilo Serafini ha dato il suo contributo al bimilenario vidiano attraverso il gemellaggio ufficiale con le imprese provenienti da Bucarest. Enorme la soddisfazione della preside, del dirigente scolastico della scuola media Panfilo Serafini, Elvira Tonti, e dei professori Mileda Serafini e Goffredo Giuliani che da anni hanno seguito il progetto dell'impresa simulata confetti Panfilo Serafini. E ora ci spostiamo a Rivi Sondoli dove sorgerà la pista d'atletica più grande d'Italia e i lavori partiranno tra un paio di mesi, ma ci spiega tutto nel servizio Domenico Verlingeri. Partiranno nel mese di giugno a Rivi Sondoli i lavori per la realizzazione della pista di atletica leggera. Dopo il sestriere a 2035 metri sul livello del mare, la pista di Rivi Sondoli a 1350 metri sarà la seconda più alta d'Italia. L'impianto rientra nel secondo dei tre lotti di intervento che porteranno ad avere un centro sportivo polivalente nell'area più elucente all'ingresso del paese. Il primo lotto si è già concluso con la creazione del nuovo campo di calcio. Per quanto riguarda nello specifico la pista di atletica, l'ultima azione era prevista nel 2016, ma si è andati ben oltre con l'inizio dei lavori posticipato a giugno di quest'anno. Il sindaco Roberto Ciampaglia spiega che i ritardi sono dovuti alla mancanza di finanziamenti regionali e statali. Tutto verrà ora realizzato con fondi propri del comune di Rivi Sondoli. Siccome è un progetto che ci crediamo in modo spasmodico, abbiamo concluso l'intero lotto di lavori solo con finanziamenti pubblici comunali. Non abbiamo ottenuto finanziamenti regionali e statali e siamo impegnati con un mutuo per poter realizzare la pista di atletica. Noi spenderemo 600 mila euro per la pista di atletica e per dei servizi aggiuntivi. Oltre alla pista verranno realizzati gli spogliatoi a servizio della struttura. I lavori dovrebbero avere la durata di un anno. Nell'estate del 2018 Rivi Sondoli potrà così avere un impianto di atletica all'avanguardia che permetterà di organizzare importanti eventi in alta quota. Il sindaco Ciampaglia evidenzia gli sforzi della propria amministrazione comunale ma nel contempo esprime amarezza nei confronti della regione. Quello che fa specie è che noi riusciamo ad avere una sponda con i nostri vertici regionali che neanche loro credono sotto questo aspetto del turismo verde perché non è possibile che un comune debba investire delle somme proprie per fare un impianto sportivo che sarà a fiori all'occhiello per l'intera regione Abruzzo. Ora dobbiamo tornare a Pratola Pelinia questa volta per parlare di politica, entusiasmo in grande partecipazione nell'inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco Alessandra Tommasilli sei proposte per il rilancio di Pratola Pelinia al vertice il lavoro le ha elencate proprio il candidato sindaco nel corso dell'inaugurazione del comitato elettorale di piazza Madonna della Libera inaugurazione che si è chiusa proprio poco fa quindi vediamo il nostro servizio. Lavoro a primo posto come priorità assoluta per Pratola e la Valle Pelinia sicurezza nelle scuole, ricostruzione post-sismo e messa in sicurezza delle edifici esistenti come ha fatto Sulmone inserita nel piano di Cassa Italia decoro urbano come manutenzione ordinaria e straordinaria turismo con i percorsi da attivare nella valle dell'Abruzzo interno e piano regolatore questi sei punti cardini del programma elettorale di Alessandra Tommasilli candidato sindaco a Pratola Pelinia che poco fa ha inaugurato il suo comitato elettorale di piazza Madonna della Libera fra entusiasmo e grande partecipazione Al vertice c'è il lavoro? Sì, al vertice c'è il lavoro per la Valle Pelinia sicuramente sinergia di tutti di tutti sia della parte civica del paese che sicuramente del territorio della Valle Pelinia e anche delle forze politiche in campo che sono nella Valle Pelinia Il motto è Pratola insieme che segna il filo conduttore dell'intera campagna elettorale Io ci tengo tantissimo a dire che noi abbiamo scelto questo Pratola insieme abbiamo scelto insieme proprio perché non togliere di mezzo gli individualismi ma parlare soprattutto insieme e agire insieme perché insieme si fanno le cose da soli non si va da nessuna parte Il candidato Tomasilli punta sul coinvolgimento anonimo dei cittadini Abbiamo pensato di coinvolgere i cittadini in maniera anonima mettere delle urne in punti strategici del paese e ogni cittadino può inserire nelle urne in queste urne che sono in questi punti strategici che penso ne saranno 5 o 6 compresa la frazione di Bagnaturo mettere praticamente delle idee con cui ampliare l'ossatura del nostro programma elettorale All'inaugurazione del Comitato elettorale rappresenta fra gli altri l'assessore regionale e l'area interna Andrea Gerosolium e sono intervenuti Consiglio di Nino e Marco Iacobucci attuale consigliere di minoranze che ha dichiarato il suo pieno appoggio a Tomasilli E ora il momento della cerimonia di premiazione dell'edizione numero 18 del certame novidiano-musulmonense che è stata vinta da una liceale di Milano si chiama Gaia Marianacci e la premiazione è avvenuta proprio qualche istante fa nel teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona oltre 87 gli studenti che si sono cimentati nel concorso internazionale di latino di quest'anno in una prova durata più di 5 ore ieri quindi cerimonia come al solito in grande stile che ha fatto calare il sipario sulla 18esima edizione del certame novidiano-musulmonense tutta speciale poiché è posta in contiguità e in continuità con il convegno internazionale degli studi ovidiani che ha aperto le celebrazioni per il bimilenario della morte del sommo poeta Ovidio presenti come vedete fra gli altri la cerimonia di premiazione il sindaco della città di Sulmona Anna Maria Casini il presidente del consiglio comunale Katia Di Marzio il dirigente scolastico dell'istituto di istruzione superiore Ovidio Caterina Fantauzzi una cerimonia che è stata coordinata dal giornalista Fabio Maiorano fra musica e poesia come al solito questo l'elenco dei premiati Gaia Marianacci come dicevamo del liceo classico Alessandro Manzoni di Milano ha vinto la 18esima edizione aggiudicandosi un premio in denaro di 1000 euro con il diploma di merito e con la dotazione libraria secondo classificato Mario Mascioletti del liceo classico Domenico Cotugno dell'Aquila premio in denaro di 750 euro con il diploma di merito e la dotazione libraria la terza classificata Maria Teresa Bolliardi del liceo classico Giulio Cesare di Roma premio in denaro di 500 euro diploma di merito e la dotazione libraria la quarta classificata Marina Di Stefano del liceo classico Melchiorre del Fico di Terramo con il diploma di merito e ovviamente la dotazione libraria il quinto classificato Lorenzo Iuliano del liceo classico Alessandro Manzoni di Milano con diploma di merito e dotazione libraria sesto classificato Domenico Paolilli ed è un sulmonese proprio del liceo classico video di Sulmona con il diploma di merito e la dotazione libraria diploma di partecipazione e libraria agli studenti classificati ex equo rispettivamente al settimo e all'ottavo posto della dici e tessima edizione del certamen Ovidianum Sulmonense premi speciali Giuseppe Di Tommaso e Achille Marconi alla migliore traduzione di ogni delegazione straniera tradizionale consegna della borsa di studio in merito ai fratelli Ferrucci e agli studenti di liceo classico Ovidio che hanno conseguito la migliore media di voti nel corso del triennio conclusivo di studio per l'anno scolastico in corso la borsa di studio è stata assegnata a Sabina Fonte classe quinta C alla diciottesima edizione del certamen ovidiano-musulmonense concorso internazionale di latino hanno partecipato come dicevo 87 studenti di 30 licei italiani e 18 licei stranieri in rappresentanza di Austria Germania Romania e Svizzera bene ora dovremmo aprire la pagina sportiva dedicata al campionato di terza categoria due a due è finita tra Aurora Ovidiana il derby di questo pomeriggio al Pallozzi Domenico Berlingeri il derby è sempre il derby nulla è scontato nemmeno se una delle due squadre non ha più nulla da chiedere al campionato è il caso dell'Aurora che non ha regalato nulla all'avversario ed è riuscita ad interrompere la serie delle sette vittorie consecutive dell'Ovidiana è terminata in parità due a due con una rete del finale di Grandis che ha evitato la sconfitta alla capolista l'Ovidiana gioca nel segno di Ovidio con lo striscione del bimillenario esposto nel settore delle gradinate il punteggio si sblocca subito l'Aurora si spinge in avanti con un lancio in profondità di Pagliari in area prova lo stacco del Monaco ma la palla colpisce Lucci che determina un autogol rosso-blu in vantaggio la reazione della squadra degli Ultras si vede al settimo con una punizione di Lavella in area Romanelli non arriva a colpire e trafficante manda in corner all'undicesimo assist di Pagliarori per Romanelli che viene chiuso da Di Berardo con la palla che finisce ad Alosi per una conclusione di poco alta al quarto d'ora Bozzolini prova a trafiggere dalla distanza Scelli che devia in corner al diciannovesimo l'estremo difensore dell'Aurora si fa sorprendere da una punizione di Lavella il capitano dell'Ovidiana calcia benissimo e deposita la palla in rete per l'1-1 al ventisettesimo ancora grande Mattia Lavella quando in aria riesce a fermare Del Monaco all'attimo della conclusione il primo tempo si conclude con due tiri dell'Aurora con Ianna Morelli e Del Monaco entrambi parati da Imperatore ad inizio ripresa l'Ovidiana cerca lo spunto in profondità con tre punizioni battute dalla Vella in quella seguita al sesto Romanelli si dispera per un tocco in aria finito incredibilmente fuori al tredicesimo invece Scelli manda in corner al quarto d'ora Ianna Morelli manda di poco fuori al diciannovesimo Vujacic toglie Pagliaroli per fare entrare Grandis che si rivelerà decisivo dopo però il nuovo vantaggio dell'Aurora al ventesimo sugli sviluppi di un angolo calcia Suanen con la palla che sbatte a Della Valle e finisce in avanti ad Abdulli Murana che a due passi da Imperatore la mette dentro per il 2-1 dell'Aurora si mette male per l'Ovidiana che al trentaseiesimo perde per infortunio di Giovani rimpiazzato da Dibacco I biancorossi tentano il tutto per tutto al quarantissimo Alosi si becca il giallo per simulazione dopo essere caduto a terra tra due avversari e proprio nel finale arriva il cercato gol del pareggio Simone Grandis servito da Serpia in aria alle prese con Gianmarco e John trova lo spazio giusto per concludere positivamente il suo gol fa esplodere la gioia degli Ultras del Sulmona per il 2-2 definitivo va più che bene il pareggio per l'Ovidiana per come si era messa la partita l'Ovidiana resta sempre al comando ma ora con tre punti di vantaggio in considerazione della vittoria per 5-1 nel Capestrano contro il Boccatirino l'Aurora invece conferma il momento positivo con due pareggi ed altrettante vittorie nelle ultime quattro gare e siamo arrivati anche oggi la buona notizia del giorno a soli 13 anni è la stella della ginnastica ritmica la giovane sulmonese diretta a Spinosa si è qualificata a camionato italiano gold di ginnastica ritmica per i colori della società ASD Nicola il camionato provinciale gold della federazione ginnastica d'Italia ha visto impegnata anche la società ASD Nicola nella fase interregionale che si è svolta a Terra Nuova a Bracciolini lo scorso primo aprile le atlete impegnate in gara erano tutte ginnaste di società che militano in serie A e serie B tranne la ginnasta che ha rappresentato l'ASD Nicola e che da quasi 5 anni è in forza questa giovanissima società siamo felici di questo risultato in quanto da parte mia come allenatrice e da parte di diretta come ginnasta c'è stata tanta determinazione entrambe desideravamo la qualificazione con tutto il nostro cuore ha commentato Nicole Di Berardino è un risultato che attendevamo da 4 anni dove aver lavorato alla cremente costruito giorno per giorno con alto spirito di sacrificio a benegazione e grande rigore l'allenatrice sottolinea poi che in questo percorso professionale devo ringraziare il presidente dell'ASD Nicola Loredana Iacobucci per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti in quanto ha creduto sempre nel mio sogno cioè quello di ambire e partecipare a gare di alto livello nonostante vari problemi e mia sorella e la collega Claudia Di Berardino che mi ha supportato in questo mio ambrizioso progetto non privo di ostacoli a dialetta spinosa orgoglio sul monese nel mondo della ginnastica ritmica le nostre congratulazioni è davvero tutto per questa edizione Onda Ricci torna lunedì grazie per essere stati con noi buon fine settimana buona domenica a tutti grazie per la visione